Ciao a tutti, benvenuti nel canale. In questo nuovo video di Fortnite vi spiegherò come sbloccare un nuovo obiettivo per la carriera, quindi un obiettivo legacy. Ricordate l'obiettivo dal brodo primordiale compagni dei coralli? Vi richiedeva praticamente di dare della legna ai coralli. In questo caso invece dovete dare dei mattoni. Io consiglio di farlo in rissa squadre perché come potete vedere avete a disposizione già 150 mattoni, quindi potete raggiungere i coralli che si trovano qui, ho sbagliato punto, scusate, praticamente si trovano oltre il faro. Vedete questi isolotti? Qui, oltre il faro, nella mappa non compare, vedete, l'isola perché è davvero piccola, anzi credo che sia... no, non compare perché è piccolissima. Vedete? Non compare. Oltre il faro c'è questo isolotto, questo qui, dove trovate dei coralli. Quindi tutto quello che dovete fare con dei mattoni è di avvicinarvi ai coralli e dargli praticamente i mattoni. Quindi dovete interagire con questi coralli per dargli i mattoni. Se non funziona, spostatevi perché dovete raggiungere questa zona. Vedete? È 300 pietre. Ora, io ho 150 pietre, quindi le recupero in questo modo. Allora, la prima parte era per la legna, quindi qui praticamente richiedevano la legna, 100 di legna. Invece adesso chiedono 300 di mattoni, quindi in rissa squadre, come vedete, fate subito. Vi avvicinate qua e voilà! Avete creato una bella piramide e quindi sbloccato un obiettivo segreto. Grazie!